Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia. A Berzo è ancora viva la memoria del Beato Innocenzo. Domenica 3 marzo il Vescovo Monari ha celebrato una messa nella comunità cara al Beato. A Berzo, piccolo paese adagiato sulle montagne della Valcamonica, a metà dell'Ottocento visse un sacerdote e frate di grande carisma, Padre Innocenzo. Padre Innocenzo divenne sacerdote nel 1867 e fu inviato a svolgere il suo servizio alla chiesa a Berzo Inferiore. La parrocchia di Berzo, domenica 3 marzo, ha festeggiato il Beato con una celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo Monari e con la benedizione della cappella ricreata all'interno della casa del Beato Innocenzo. Il messaggio che lui ha vissuto nella sua vita, che consiste poi di porre la vita su quel binario dell'amore a Dio e al prossimo, è lo stesso binario sul quale siamo invitati noi cristiani oggi a porre la nostra vita. In altre parole, a rendere straordinario l'ordinario. Durante la sua breve vita, scomparsa a soli 46 anni, Padre Innocenzo si distinse per numerosi fenomeni mistici. Alla morte, le sue spoglie, circondate già da una vasta fama di santità, furono traslate da Bergamo a Berzo Inferiore, con un corteo che interessò circa 12.000 persone.